cari amiche e cari amici prima di aggiornarvi sulla guerra tra i papi devo chiedere delle scuse a un amico dovete sapere che io sblocco centinaia di commenti ogni giorno e poveretto c'è stato un amico gentilissimo che ho scambiato per un'altra persona che aveva un avatar molto molto simile e che viene a rompere le scade tutti i giorni a correggermi le pronunce io so che la mia pronuncia dei nomi è disastrosa in più ho un piccolo accenno di dislessia potremmo dire da questo punto di vista per cui i nomi li sbaglio con estrema facilità e li ricordo ancora meno e allora che è successo che come quando da bambini si sbaglia il tiro si gioca pallone per strada e si colpisce il passante questo poveretto che era stato gentilissimo è stato da me mandato al diavolo ma veramente in maniera brutale e non me ne ero accorto per fortuna c'è stata un'altra amica del canale che lo ha commentato e quindi è rimerso il il suo commento mi sono accorto che c'era il suo commento tra quelli da da sbloccare e questa amica poveretta cercavo di riparare dicendo no no ma invece a me interessa questo discorso sulla pronuncia e quindi niente poi ho cancellato il tutto ma devo chiedere assolutamente scusa a questo amico perché era stato gentilissimo poi con un commento che iniziava pregiatissimo marco cosmo quindi proprio una cosa e quando me ne sono accorto mi sarei buttato dalla finestra va bene detto questo chiedo scusa e chiedo scusa se possono capitare sviste di questo tipo anche con altri amici abbiate pazienza e passiamo alla guerra dei papi le ultime notizie del pomeriggio di oggi 15 gennaio 2020 le troviamo sul messaggero.it alla pagina del vaticano libro sul ceribato ratzinger toglie la firma ma evita lo strappo città del vaticano l'unico che in questa vicenda scombinata e surreale si sta fregando le mani per l'inaspettata pubblicità è l'editore francese legato agli ambienti della destra cattolica americana che ha pubblicato il libro del cardinal robert sarah e benedetto xvi in cui è contenuto l'appello a papa francesco a non toccare la disciplina sul celibato sacerdotale contrapponendo così in modo tanto sfrontato i due papi però ormai era troppo tardi il libro sul celibato in francia è già nelle librerie con la doppia firma di ratzinger e il cardinal sarah e quindi il volume che inizialmente era destinato a un pubblico cattolico si è trasformato in 48 ore in un caso editoriale di rara potenza perché non si è mai visto uno scontro di questo livello tra due papi e così imbarazzi accuse sospetti denunce il segretario del papa emerito monsignor georg cercando di salvare capre e cavoli ha imputato al cardinale sarah di essere scorretto per non aver fatto vedere a ratzinger le bozze del libro e soprattutto la copertina sulla quale appaiono i nomi a caratteri cubitali dei due autori per chi non l'ha visto consiglio di vedere il video che ho pubblicato questa mattina intitolato ratzinger contro bergoglio ratzinger dovete cliccare vs bergoglio clamorosa inchiesta del decimo toro perché lì spiego tante cose che adesso non sto a ripetere perché c'è già stato un precedente rispetto a una falsificazione che aveva fatto il vaticano relativamente al del un presunto scritto e commento di papa ratzinger ma di questo ho già parlato in un viso precedente non ne riparlo e invece quello che tengo a sottolineare e a ribadire che questo giochetto delle ambiguità non può andare avanti dunque bergoglio lo sappiamo il compagno bergoglio dei disastri che ha combinato sbagliano gli amici che ogni tanto mi scrivono ama per questa ha scritto perfino per questa cavolata pensate che dio si occupi di questa cavolate del matrimonio dei sacerdoti no qui è in ballo qualcosa di gigantesco dal punto di vista dottrinale che sono i riformisti bergogliani che vogliono cambiare tutto compreso la la dottrina e vogliono protestantizzare spero che l'ho detto bene il cattolicesimo e contro i tradizionalisti di conseguenza la posta in gioco è altissima realtà per questo papa ratzinger deve dare un segnale arrivato a questo punto qualcuno mi ha criticato dicendo ma come marco cosmo tu adesso dici che il segnale potrebbe essere ad esempio apparire all'angelus insieme per salutare e quindi cercare una conciliazione quando hai sempre attaccato bergoglio no ma sono stato frainteso o mi sono spiegato male in ogni caso quello che volevo dire è questo che ratzinger se è d'accordo con bergoglio deve dare un segnale del genere di conciliazione con quello che è l'impostazione della chiesa di bergoglio altrimenti deve dare un segnale contrastante ma arrivato a questo punto è responsabile anche lui non è più solo bergoglio è responsabile anche ratzinger e non può stare con questa ambiguità adesso di ritirare la firma all'ultimo momento guardate il video precedente dove spiego tutto perché questa cosa è già successa molto simile nel 2018 anche se non ha avuto questa eco e questa rilevanza tant'è vero che i giornali non ne hanno parlato da che mi risulta solo io sul decimo toro ho parlato di come si intrecciano queste due storie rivedete il video che ho pubblicato stamattina dunque ratzinger deve assolutamente far comprendere qual è la sua posizione perché non può contribuire al caos bergogliano se non da un segnale preciso sarà responsabile anche lui del disastro che sta accadendo nella chiesa con tutto il rispetto per papa benedetto bene cari amiche e cari amici un pollice su per il mio lavoro sempre incollati al decimo toro vi terrò informati e chiedo ancora umilmente scusa al caro amico che ho mandato al diavolo brutalmente ciao a tutti un abbraccio